per voi questa è una luna bellissima, una giornata straordinaria sotto tanti punti di vista la fortuna finalmente torna a sorridermi, coincidenze davvero propizie in questo giorno sia sul lavoro ma soprattutto nei rapporti di coppia che finalmente vi restituiscono quella tranquillità di cui avete bisogno chiudiamo con il segno dei pesci